Un tuffo nella tradizione qui a San Benigno con la fiera d'autunno. Essendo una tradizione millenaria, una fiera d'autunno ci sta molto bene a San Benigno e assolutamente in linea con la tradizione che parte da Guglielmo da Volpiano nell'anno 1000 e quindi continueremo questa tradizione. Non soltanto la parte commerciale ma è suddivisa a temi? L'abbiamo suddivisa per aree tematiche, chiaramente la parte commerciale c'è perché è una fiera, abbiamo inserito in ogni caso gli artigiani, gli scultori del legno, l'ortofrutta verso Piazza Italia. Dopodiché abbiamo ancora ovviamente i giostrai e anche proprio in Piazza Italia dedicata ai bambini abbiamo le mucche, gli asini, i poni per portarli a spasso. Gli ho fatto una piscina di paglia e abbiamo anche le macchine agricole antiche. Proprio all'insegna della tradizione del passato? Sicuramente per la tradizione del passato. Gli ho fatto una piscina di paglia e abbiamo anche i bambini abbiamo le mucche, gli asini, i bambini abbiamo le mucche. Gli ho fatto una piscina di paglia e abbiamo le mucche, gli asini, i bambini abbiamo le mucche. Gli ho fatto una piscina di paglia e abbiamo le mucche, gli asini, i bambini abbiamo le mucche.